Te porco odio a tre anni inizio a romperti i coglioni per avere simboletti più carini vicini al nome sarei un grandissimo mod banno tutti faccio subito Oh ma da du jolly da vabbè aprimoselo vediamo un po' sto pacco scienziato Mi è rimasto sto messaggio un canna vuoi rimando Nammibra non so manco c'è c'è Rebic Buono Che culo Ah ma non c'è stanno i giocatori Eroi in pre Come eroi in pre Ma che c'è devo fare che ero in prestito Ma che c'è Lopes e Rebic Te posso dire per mille FIFA points Mi sento di averlo preso un po' al culo Pochetto Pia pure questo tanto ormai Impossibile trovare una carta speciale qua dentro Ah men di 86 Vabbè si hanno l'overallockato 86 86 85 85 Andiamo a far pick va che è meglio Giocatore ha scelto 85 e più Vediamo che Ma scelta E' un pacco con dentro Eeeh ti posso dire E' una bella trovata E' una bella trovata in realtà Perché così puoi continuare a aprire i pacchi Però ti mettono il pick dentro al pacco In modo che non ti blocchi gli altri pacchi Un bello 88 succulento Deri grazie per essere ben tornato Ti posso dire una trovata quasi intelligente Ma Rebic infatti non ce sta Ma l'hanno fatto Inter e Milan L'hanno fatto Romella Tiago Silva Eif Guarda non costa molto questo pick Però insomma magari a trovarci qualcosa di meglio Che ne so Piamo Muller Ovviamente entrambi i doppioni Probabilmente entrambi non scambiabili Sì Però vabbè Che devi fare L'idea c'è stava Ma io pensavo fosse solo per l'85 Quelli singoli Cioè se ne vuoi fare 7000 Ma che se è stupido Che mi metti qualcosa così No perché se io mi voglio fare Fila e mi voglio aprire 100 pick Tutti insieme 80 più Non lo posso fare Manco se li Mamma mia che cagata Sti pick Comunque sono sconvolgenti Mo va aprire in pick E ci metti 6 mesi Fatto perché? Perché così stai di più Sul loro gioco di merda Cade sempre lì il discorso Più rapidi rispetto Ah no Su 4 è normale Su 4 è normale Ci può mettere una croce sopra Su 4 laggano proprio da morì Non O vedi tipo qua Se io mu esco Non posso riannare sullo shop Eh sembra che tu è peggio Non li puoi più accumulare Ha visto però Che belle le animazioni Nei menu 85 Sull'80 hanno messo il pacco Del pick Cioè devi essere proprio Un deficiente E un tumore No ma tu sai Vedete che il drop Doppio picco 85 Doppiamo più Doppiamo più 75 Più Tiè Più adesso Bersommar Boh Oh si guarda Guarda come è fatto bene Vai Olè E andiamo Che divertimento Aprirli così Mamma mia Ma non è per niente Una rottura di cazzi Con l'aggiornamento Nel negozio Ogni volta Bravi Bel lavoro Come al solito Tchè Ma a te Grazie P20 Se è bentornato Perché hanno rimesso Delle carte speciali Hanno rimesso Hanno rimesso Delle carte speciali No ma vabbè Tranquillo 30 secondi Va a aprire il dubic Drop Allucinante E poi l'hanno fatta apposta L'hanno fatta apposta Per il discorso De non scambiabile Perché così Non te li puoi tenere E li devi scartare Per forza Oh Nivido bene Oh Si ingano Che culo Che hanno fatto questi Praticamente Che sono riusciti a fare Hanno messo Che il pick Lo trovi dentro A un pacco Questo implica Che sì Ok da una parte Ci può stare Ma il problema È che l'hanno fatto anche Con i pacchi Con i pick piccoli Quelli da 80 più infiniti Quindi non ti puoi fare Più 100 pick infiniti Ti devi fare un pick Alla volta E ne apri uno alla volta Il che significa Che non puoi neanche più utilizzare Te ne apri 100 Tutti i non scambiabili Li butti dentro un SBC Se ne trovi uno Lo devi usare Quindi spendi poi i crediti Per prendere altri non scambiabili Il 19 Ben tornato Dopo un'ora di ritardo Sono riuscito a riabbonarmi E sono 19 Come il numero Delle vecchiette Che tieni in cantina Caù o puzzone A dimenticavo Ci terrei a dire Una cosa dal cuore Dimmi I bossetti Non pensate che Quell'uomo abbia sofferto Già abbastanza Tutti questi anni In prigione Senza aver commesso Alcun delitto Bossetti libero Trimmer Si allontana Assolutamente Vabbè Oggi In teoria domani Finisce Just Poi tocca vedere Però potrebbe essere Ma che qua Pausa In basso a sinistra Diamo Un mese Di bannaggi In tonic Grazie Casemiro 89 Pazzesco Tanto ormai Che compri i giocatori C'è il 95% Della gente Che gioca E' uno scambiabile Mettono Solo pacchi Non scambiabili Tanto E lì Chi compri E voglia Beccate Sobermuller E tanto Poi Vedi Sarà l'anno In cui la gente Ha sciopato De più Come ogni anno Perché hanno messo Il pacco Quello Do si trovava Praticamente Faranno in modo Che tutti C'hanno In squadre De Cristo A inizio Gioco Il 17 Senzicone Ma si può Trovar Un giocatore Evento Se entrasti Piccate Merda O è tipo Impossibile Che ne so Uno chiede Che magari Veramente Hanno trovato Un if Ed è tutto Sto casino Vabbè Io ho trovato All'underone To watch Other pick Che ce fai Giusto su Nexus C'è Chuckie Sword Bella cagata Ma guarda Non ho visto uno Che con Mille Fiamme Si ha trovato Di Brad Davis Quindi Parliamone Diciamo che Insomma Quando Primo Poi arriverà Uno Chi mette In mutando Eh Primo Poi arriverà Quello Chi mette In mutando Qualcuno Che gli Leva Tutto Arriva Eh Primo Poi Arriva Primo Poi Arriva Chi purga Arriva Tiè Becca Adesso Berle Vandoschi 91 Eh Ma Deva Arriva Quello Chi purga Deva Arrivà Deva Arrivà Quello Chi purga No Perché Poi Il problema Qual è Che Se Ogni Anno Ricominciassero Da capo Almeno Uno Te potrebbe Dì Beh Ok Invece Mi sa Che Mo Il gioco Dura 8 Anni Prima Che Chiudono I server Cioè Non è Che Tipo Era Uscito D'aprile L'ultimo Oh Via adesso Brahim Guarda Che Culo E Invece Mo Niente Ma Non sono I Vuotiff Dell'anno Scorso Che Senso Sì Fantasy Foot C'è Stanno Come Pro Non So Brutti Per Carità Però Insomma Ma Almeno Mi potevi Fa Stasettimana Sti Cazzo De Fantasy Foot Senza Stagli A romper I Coglioni Avremmo Se Pure Sto Sgorbio Ha Fatto Sta Roba Ci ha Messo 4 Scemi In Pacco A 10 Euro No Shop In W 85 Le Vati Pic Boni Ha Messo Ste Cagate Versi Dice a Phillips Che sta Dendo Ma Ne potevi Fa Un Paio Potevi Fa Ducarte Live A sto Punto A Champions Pare Che Sta Sul Cazzo Ma Perché C'ho Tanto A Fai Carnival Per Il periodo è giusto Non so Perché alcune promo Non vengono riproposte Onestamente Promo Che piacciono Perché se A me Mi fai scena Schermate Le Carnival Che è uscita Due o tre Anni Fa E So Contento Vinicius Junior Cazzo Che Culo E Il nick A questo Qua PSN Fred Centurione Io L'ho Giocato Non è Male Su 4 Mi È Piaciuto Pia Vinicius Tanto Siamo pieni De De Pippe De Robbe Doverol De Cazzi Ti fai Petri a 200 Sono d'accordo Eh capo Mui picche Non li puoi aprite Devo scartare questi L'ha trovata L'ha genialata Boh Giusto perché Comun No no Giusto perché Comunque Spagnolo Real Madrid Cioè Ce potrebbe Stà Però si Parlamo De Chiaro Molina Ok Ma è 3 Cioè Non è che Me stai a Parla Eh De Chissà Che Domani Esce Domani Pia G Marsiglia Soler E Colasina C'erano Oh Beccate Sto Che Le Buono Eh beh Mo Dipende pure Da persona A persona Un pareggio Dei si Uppano Entrambi Potrebbe Succede Mo ti dico Ovvio Real Favorito Però Non è che Stai a giocare Una partita Un po' Succede Che 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 Culo La Porte Mamma Mia C'avevo Proprio Da fortuna Di Balla One to watch Nell'85 Ma guarda Non ho trovato Una carta speciale Nell'85 Devo dire Ma Quando li trovi Ah pure Ah Ma hanno fatto Pure il Pikachu Cioè Ma non mica Ci faranno La pippa Che tutti I picchi Mettono Così Prendere Ruben Dias C'è Mo tutti I picchi Da ora In avanti È così Cioè Per uno Grosso Tipo Un 85 Può Essere Simpatico È Meglio Il cazzo Perché Se Mo te Vè qua Il picco 80 Più Nuo Poi Prì Vabbè Certo Varanno E Malasia Dici Metto Per Martial Però Andate Sul link De Trageo Che Lì Fammo Le robe Notturne Un po' Più Così Un po' Più Pepate Vabbè Medina Manco Brutto Arebbe Da provare Ciao Valbotti Fammo Le cose Un po' Più Diciamo Tante cose Belle A Quell' Orario Lì Sti Pic Se fanno Perché Costano Poco Però Non Mi Sembrano Una Grande Tanto Oggi 14 29 Ero In Live Forse Perché Non Ho Pranzato Però Un altro Discorso Mi Mi Rottute Fane Non Dovano Parli Di Due Quelli D'Europa League Quelli Che C'hanno Però Il Fino 86 Che M'ha Mandato Valbo Ma che Non Sto Apri Il Promo E Fammi Scammare Pure Qua Ma Si Ma che Cazzo Mi Frega Te Pare Che Non Faccio Se Meta Zlatan Ibrahimovic C'è 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 Come Un Porco L'Aitoimo Ricordo Oh Menzione Todi Francia C'è C'è Vaffanculo De Fekir Sto Merdone Ah Se Il Megers Doppione Che Culo Icone Impressito Ah D'accordo Vabbè Abbiamo Fatta La Difesa Mi Finirei Di 80 Doppio Fare I Pic 85 Mi Finirei I Pic 85 Vabbè Mi Pic 85 Regà E Uno Grandi Soddisfazioni Anche Sul Terzo Account Vabbè Arrivato Quasi A Marzo Però Io Grazie Per I 17 Ben Tornato Però Mi Mettono I Foot Fantasy Eh Pure Spyro Chissolo Dimentica Spyro Che Robetto Mi Ricordo Pure GTA 2 GTA 2 Pure ci ho giocato tantissimo Che era con la visuale dall'alto Con la macchinina Si era proprio capito Però era che Puro quello mi piaceva un sacco Giocato all'infinito Con l'Hercules Cioè dovrei avere da qualche parte Ancora il CD originale Non so dove Qualche cassetto Strano Mamma mia Ce l'ho da qualche parte Quelli Pandemonium Si sia Me l'ho tirato fuori prima Mamma mia Inquietante Quello se è stato Lo porto Quello se è stato Lo porto Poi chissolo Le vede Lo vede Se faremo Dieci spettatori Però lo porto A parte Tocca Vede se OBS O legge Perché è tutto Strecciato In 800x600 Quindi può essere pure Che manco Se apre Non lo so Falchi Onestamente Cioè nel senso Io calcolo Più quell'arpisello O la soia Vabbè FIFA Street Era proprio una roba Che volai Calabria Mamma mia 85 Che è il più alto Dei due Ah Stuvani Mamma mia Vabbè Ma da questo Un prestito Non si butta Stuvani e Calabria Sei contento? Quello Vabbè Dive Fa dei pokemon Parlo comunque Roba Perché pure Mystery Dungeon Me l'ero recuperati Vabbè Piesso Kimmich Ma Non si è Pato quel verde Come no Non si è Pato no Quello è Dei gironi Della champions Dalla finale C'è sta Lab Ha inventato lui Ma ma Guardo Ma guardo Cabo Ma posso Bia Mmm 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 C'è un...